Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, io sono Nada e sono una studentessa del terzo anno di Scienze della Comunicazione. Ho scelto questo percorso all'Insubria perché essendo un Ateneo di medie dimensioni dà la possibilità agli studenti di creare un buon rapporto con i propri docenti. Durante il mio percorso formativo, oltre ai corsi didattici, ho trovato interessanti e utili laboratori e seminari tenuti da esperti nel settore che l'Ateneo offre annualmente. In questi anni l'Insubria per me è stata come una seconda casa. Rappresenta un'opportunità di studio, di relazione e di connessione con il mondo che mi circonda.